Allora devo fare un'errata corrige su un video che ho pubblicato stamattina e che ho cancellato perché conteneva una notizia sbagliata. Mi scuso, l'ho interpretata male, può capitare a tutti, abbiate pazienza, ci metto subito una pezza. Grazie anche alle vostre segnalazioni perché un paio di voi nei commenti mi hanno detto ehi attento, hai preso un granchio. Da dove nasce l'incomprensione? Da questa notizia qui perché è stata scritta in maniera secondo me un po' caotica. Qui ci dicono che All Elite sta vendendo più biglietti della WWE in una determinata arena. Si tratta della UBS Arena di Long Island, zona di New York, dove la federazione dei McMahon ha appena fatto in quell'area geografica un risultato importante. più di 14.000 paganti al Meso Square Garden sold out. Qui ci dicono che il RAW che ci sarà a Long Island ha venduto per ora circa 2.500 biglietti. La data è fissata al 29 novembre. Poi qui non ho ben interpretato io la cosa perché parlano di un next week e io ho pensato next week quindi questa settimana. Invece è la settimana successiva al 29 novembre ed è per questo che io ho sbagliato a fare la comparazione. Quindi All Elite che ha uno show, un double tapings programmato nello stesso posto per la data successiva ha venduto 6.100 tagliandi. secondo me questa l'hanno scritta proprio male. Infatti visitando altri siti, ad esempio questo, Prestling Inche, la news è spiegata molto meglio. Ci sono proprio le date. C'è la data della WWE che è il 29 novembre e c'è la data di Dynamite e di Rampage che è l'8 dicembre. Tra l'altro c'è anche a supporto un tweet con una piantina che ci permette di vedere più o meno la distribuzione dei posti. Quindi la notizia reale è che al momento All Elite Wrestling su questa particolare venue ha una vendita di tagliandi superiore alla WWE su degli show che sono molto ravvicinati. Ci manca un dato per concludere l'analisi, ovvero la differenza economica. Quanto vale mediamente un biglietto All Elite? Quanto vale mediamente un biglietto WWE? Perché la capienza stimata, qui ci dicono, è di 7.400 biglietti circa. Credo che sia raggiungibile da entrambe le federazioni, visti i numeri attuali e tenendo conto che manca tantissimo tempo alle date in calendario e che le somme si faranno alla fine. Certo è che l'entry level, il costo del biglietto, alla fine potrebbe fare la differenza perché se lo stesso posto per vedere uno show mi costa 10 e per vederne un altro mi costa 30, capite bene che alla fine l'incasso sarà differente. Però ci tenevo a tornare con questa precisazione perché mi sono lasciato ingannare da una news che non era chiara e quando si sbaglia in questi casi per onore di cronaca e per correttezza bisogna subito appena ci si accorge andare a mettere una rettifica doverosa e così ho fatto. Nel video di stamani c'erano altre notizie, ora con calma piano piano le recupero e ve le ripropongo.